A Firenze si è parlato di genitorialità responsiva. Cosa vuol dire questa genitorialità? Vuol dire cercare di allearsi col genitore perché il genitore diventi uno strumento utile e importante per seguire suo figlio, per curarlo, ma soprattutto per vedere se ci sono dei problemi e conoscere a fondo questi problemi. A suo tempo la Nestlé ha fatto un'indagine importante proprio sulla attività della genitorialità e si è visto che molti genitori sono consapevoli della difficoltà di far crescere un bambino e soprattutto si sentono attaccati da quello che è il giudizio comune su di loro, dai parenti, dai vicini, dai media, perché anche i media incidono sul fatto di considerare i genitori come i primi responsabili se qualcosa va male nel bambino. Bene, parlare di genitorialità vuol dire dare al genitore delle opportunità per essere proprio lui a seguire il bambino e noi pediatri dobbiamo utilizzare tutti i nostri strumenti e soprattutto la nostra competenza per aiutare i genitori a fare questo ruolo. Ruolo importante perché è solo attraverso una genitorialità responsiva che il bambino può essere seguito in tutto e per tutto nella sua crescita evolutiva sia sotto il profilo, come dicevo prima, curativo, ma pensiamo anche al profilo della educazione, al profilo della crescita neuroevolutiva e al profilo della sicurezza del bambino stesso.